E ciao ragazzi, qui è Sabit e benvenuti in questo video speciale. In questo video speciale faccio gli auguri di una buona Pasqua 2023 a voi e alle vostre famiglie. Un bacione grande dal vostro Sabit che vi vuole bene, dal primo all'ultimo che siete, perché stiamo anche crescendo sul canale ragazzi. Davvero grazie, grazie infinitamente, grazie del supporto. Perdonate questi capelli un po' così, però è una scaramanzia. Allora ragazzi, parliamo un attimo della programmazione. Per quanto riguarda domani che è Pasquetta fino a venerdì, non uscirà nessun video. Invece da venerdì in poi la programmazione riprenderà con tutta tranquillità. Ripeto ragazzi, auguri di nuovo di buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie, la seconda volta che ripeto, qua da Sabit è tutto e di nuovo tanti auguri. Ciao ragazzi!